Avvolti da un ambiente temperato e confortevole per rigenerarsi lontano dai luoghi della frenesia e dello stress. Sono sempre di più le strutture alberghiere della Val di Non che accanto al servizio di pernottamento e ristorazione offrono ai loro ospiti e al pubblico esterno ampi spazi per il benessere del corpo e della mente. In questi paradisi di vapori, fiotti d'acqua pura e riflessi dorati è possibile concedersi una vacanza o qualche ora tutta per se stessi, un piccolo regalo alla propria persona. Il mondo delle saune con i suoi bagni turchi, biosaune e saune finlandesi, le docce tropicali, emozionali e rivitalizzanti e ancora i percorsi knipe, la cromoterapia, solarium per il corpo, palestra e giardini esterni. Qualche brivido freddo sotto le cascate di ghiaccio, nei percorsi di nebbia fredda o nei pozzi ad immersione e poi via a concedersi qualche bracciata nelle ampie piscine, corredate da idromassaggio, nuoto controcorrente, passaggi dai caldi ambienti interni alla fresca temperatura esterna o un po' di tranquillità negli angoli relax sempre forniti di tisane e frutta fresca di stagione. Le spa della Val di Nono offrono anche moderni centri estetici dotati di tecnologia all'avanguardia per la cura della persona e della bellezza, come le innovative vasca di immersione Beauty System che regalano la sensazione di essere avvolti dalle confortevoli cure del grembo materno. I trattamenti proposti ricercano costantemente una sintonia con gli ingredienti naturali offerti dal territorio, mele e mieli prodotti dai contadini della zona, erbe e frutti del sottobosco. A noi qui in Val di Nono proponiamo in questo centro dei trattamenti specifici o a base di vite rossa all'uva oppure il fieno, alghe e anche la mela che è un po' la tematica principale appunto anche della nostra valle. Si ricorda inoltre che la mela contiene anche la pectina che è un enzima che va ad agire come antietà sul corpo, quindi anche a quest'azione rigenerante piuttosto che nutriente. Le ultime novità in fatto di massaggi, fanghi e trattamenti personalizzati. Questo massaggio dalle origini comunque orientali dove il primo obiettivo è proprio quello del benessere, del rilassamento. È questo che questa tipologia di massaggio vuole offrire, quindi proprio attraverso il calore, si vanno a sciogliere le varie piccole contratture e quindi proprio a rilassare la persona per un effetto benefico in tutto il corpo. Pensate per chi desidera assaporare pienamente queste magiche dimensioni la possibilità di soggiornare in Val di Nono con pacchetti vacanza tematici, dedicati al benessere con i quali unire il piacere per la cura del corpo con la scoperta del territorio, della sua enogastronomia e ospitalità, tra passeggiate e culturali all'aria aperta, per ritrovarsi la sera coccolati sotto il dolce calore delle stelle.